La Laura è un gruppo esercizio con uni e cerchi, alcune di loro sono al primo anno di ginnastica, hanno partecipato al campionato con sport, quindi il campionato nazionale, conquistando ovviamente diversi mondi e diversi primi posti. Signore e signori, a voi il gruppo dagli 11 ai 14 anni della SD Astro Morpella. Grazie. 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 Paola. Valentina. Grazie. 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 Vi dieci. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.